buongiorno ragazzi per chi volesse sostenere questo canale lo può fare gratis iscrivendosi ed attivando la campanellina è molto più importante di quello che tu pensi te lo dico io fidati anche se è gratis è un gesto che ci metti un mezzo secondo a farlo iscriviti al canale attiva la campanellina se ti fa piacere altrimenti va bene lo stesso due chiacchiere si fanno uguale non me ne frega nulla se è civile se è penale l'inter la storia dell'inter impone l'uscita di questa specie di presidente anche perché io ti dico civile penale ma berlusconi di qui e di là la cosa che dà fastidio sto leggendo un po' di cose è che lui dovrebbe avere parlo di zang l'umiltà di dimettersi e di lasciare la presidenza a giavier zanetti perché serve una figura pulita una figura seria e una figura inattaccabile zanetti presidente in attesa di passare di mano perché l'inter a livello di immagine ne sta uscendo distrutta potete dire tutto quello che vi pare ma a livello di immagine ne stiamo uscendo distrutti distrutti ti fa un esempio il caso acerbi una società forte va lì gli dice oh giovane allora che si fa qui sì no due giornate tre giornate no non ci puoi lasciare cosa volete fare con acerbi sta diventando una telenovela anche questa quando c'è di mezzo l'inter diventa sempre tutto una telenovela cosa vogliamo fare una acerbi lo squalifichiamo non lo squalifichiamo ci dai modo di organizzarci dobbiamo sapere se possiamo contare sul giocatore se non ci possiamo contare ma chi è che li deve esplonare chi è che deve andare lì a chiederglielo io o il cinese è sparito chi ci deve andare lì ma di cosa stai ragionando siamo una barzelletta a livello organizzativo e comunicativo l'inter deve avere comunicazione e programmazione oltre agli investimenti cosa è così non potrai mai avere indipendentemente poi da quelli compromessi sul web con il regime di nanchino e a me del regime di nanchino non me ne frega nulla perché io non vivo a nanchino io non vivo in cina io vivo in italia me della cina non me ne frega nulla dei loro modus operandi sia ben chiaro io pago le tasse in italia persone vicino a me salvano le vite in italia a me della cina non me ne frega nulla stateci voi a quel regime non parlo a voi ragazzi del canale ovviamente fateci stare loro acquistati per due euro che parlano bene di una roba vergognosa io mi dissocio a questo schifo e attenzione e attenzione per quanto riguarda l'onorabilità Emma è civile sai Berlusconi era penale Agnello era penale che vuol dire aspetti che lo buttino in galera per dire che deve andare che deve uscire come presidente ma ma che ragionamenti sono ma dove sono andati a finire i valori dell'inter l'etica i valori la moralità dove è andata a finire ma ragazzi ma ma qualcuno davvero c'è ma 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 siamo matti vogliamo aspettare che lo buttano in galera per dire ma non perché deve andare in galera per dire non lo voglio più come presidente lui deve uscire subito lo devono far uscire subito onorabilità vogliamo parlare della sostenibilità economica dove ce l'ha questa la sostenibilità economica fammi fammi fatemi capire dov'è il requisito di sostenibilità economica con Zand uno che vuole riscadenziare al venti per cento che non ha quattrocento milioni da dare a uno che deve tirare fuori altri duecento milioni per continuare tra patrimonio netto e bilancio segnava meno trenta mi dici dov'è la sostenibilità economica uno che non fa un aumento di capitale da da cinque anni mi dici dov'è la sostenibilità economica dov'è come fa un presidente nulla tenente a fare il presidente di calcio me lo spieghi me lo trovi un presidente nulla tenente in tutto il panorama del calcio mondiale ma di che cosa stai ragionando ma di cosa ragioni io non sono compromesso con i regime di nanchino io non tifo zang a differenza di altri io tifo questa vedi io tifo inter a modo mio ma la tifo sarà un rompecoglioni solo rompecoglioni non mi interessa io non sono compromesso con i regime di nanchino o all'umiltà di dimettersi oppure fate un'assemblea dei soci anche se poi alla fine sono sempre loro per lo statuto e via di scorrere oppure ci diassi di mettersi e lo mandassero via non me ne frega nulla lo puoi lo puoi sollevare dall'incarico perché è vero che non è un discorso penale ma vogliamo parlare dell'immagine dell'inter della vergogna che stanno provando tanti tifosi dell'inter vogliamo parlare della vergogna ci sta mettendo addosso questo qui vogliamo parlare di quello sei contento di uno che dice no la firma non era mia quei soldi non lo ho preso e poi li deve restituire sei contento io no sei un tento di uno che si dichiarano una tenente io no io ho dei valori sono per l'inter anche per quello perché l'inter ha sempre avuto un'immagine e dei valori totalmente diversi dalle altre società pibbio pibbio ora io voglio parlare dello sponsor ludopatico no ne parlavo con francesco marvulli che saluto ciao francesco benson dov'è finita benson innanzitutto le scommesse non si possono fare più in contanti hai visto devi stusciare la carta devi essere tracciato in italia una persona su quattro si rovina con il discorso del gioco e te la vuoi mettere sulle maglie ma dov'è benson allora io su benson voglio fare un discorso innanzitutto questo sponsor ad oggi ad oggi vado a riprendere l'articolo per non sbagliarmi perché l'ho letto un paio di giorni fa però allora prove per l'inter per bezzo nuovo retro sponsor della folgore caratese dove io ho 40 anni posso fare una ventina di gol all'anno in quella teoria te lo dico io fidati sponsor della folgore caratese retro sponsor poi allora io ti voglio far notare una cosa su questo sponsor ludopatio di cui io sono non contrario di più perché il mio miglior amico si è rovinato con il gioco ha buttato all'aria una famiglia ed ha rischiato anche grosso se lo vuoi sapere ecco perché ce l'ho così tanto con il gioco oltre al fatto che mi fa schifo con tutto rispetto per chi gioca ci mancherebbe ma io parlo di gioco pesante parlo di gente si gioca alle case che fa debiti che finisce in mano gli strozzini parlo di quella gente lì non di si gioca alla schedina anche se è sempre gioco Qatar Airways ha un fatturato di 20 miliardi all'anno ok e nel duemila ventitré ha fatto un utile di un miliardo roba semplice venti miliardi di fatturato Qatar Airways un miliardo di utile nel duemila ventitré la Benson che è una società di sponsor battling lo sappiamo tutti praticamente entrerebbe nel campionato italiano e con un capitale di settecento milioni questa Benson ne darebbe centocinquanta all'Inter capisce mi suona un po' strano questi sono come il Zillacus che tra l'altro se non sbaglio ha un mandato d'arresto a Singapore che vuole fare la app per i tifosi dell'Inter a un euro che il Zillacus ad oggi al massimo può comprare una pescheria non l'Inter o una discoteca questi sono uguale cioè questi con settecento milioni di patrimonio ne darebbero centocinquanta all'Inter mi sembra strano sono spariti dove sono quelle di Bezzo e vanno a fare la sponsorizzazione come racromaglia in una società di serie D posso avere i miei dubbi li posso avere i miei dubbi o no quindi per i che ora sono ricalmate le acque a Scemi ancora non lo sanno si squalifica non si squalifica la cosa di cui necessita l'Inter è un cambio per immagine non perché se togli Zang togli i debiti o quant'altro lo togli solo dalla carica tanto l'Inter la devono vendere sempre in Cina quindi perché l'Inter ad oggi purtroppo è ancora cinese non c'è nessun passaggio di vuoto e te lo e te lo abbiamo detto in più salse quindi lui si toglie come presidente si gestisce i suoi guai i suoi guai non devono essere associati all'Inter e poi dopo il prima possibile si spera che arrivi una nuova proprietà che sia altri che sia tra secondo noi potrebbe esserci già il compratore lo abbiamo detto non me lo rimangio per come la vedo io non vedo altri compratori che lo sappiamo che i sauditi gli arabi consorzio saudita mettilo me ti pare perché oltre gli arabi chi la può comprare l'Inter gli americani i fondi i fondi speculativi non la comprano l'Inter quindi vedremo poi cosa succederà ma ad oggi fondamentalmente siamo arrivati ad un punto di non ritorno perché qui ragazzi io incomincio a vergognarmi di questo presidente di questa specie di presidente che deve essere allontanato e Giavier Zanetti presidente ciao grazie mille